Sono in partenza, in promozione, i corsi individuali. I corsi individuali significa un insegnante e uno studente. 1.350 euro, 18 ore di corso. Quindi non corsi di gruppo, non un insegnante con 20 studenti che mentre uno sta finendo un bollo è da un altro a correggere. Quindi corsi individuali, sabato e domenica, 9 ore il sabato, 9 ore la domenica, 18 ore. In genere i carrozzieri che fanno il corso dopo 4 mesi esercitandosi un'ora tutte le sere in carrozzeria riescono a salvare le macchine mediamente grandinate in mezza giornata. Le assicurazioni queste macchine le pagano dai 1.800 euro in su. Quindi due giorni di corso, spesa minima, se siete interessati a questo lavoro, se siete carrozzieri, riuscirete applicandovi, avendo capito le tecniche e avendo visto come si lavora e avendo anche provato a lavorare, facendo pratica riuscirete a salvare le macchine mediamente e lievemente grandinate dopo qualche mese di pratica. Trovate sotto il video il link per iscrivervi. I corsi sono aperti, ripeto, sono corsi individuali per essere corretti istantaneamente. Ci vediamo nei prossimi video.